La manutenzione del territorio, come ben noto, è compito del Consorzio di Bonifica che affida i lavori alle imprese agricole e forestali locali che si registrano nel proprio albo. Una scelta in cui noi crediamo fortemente perché ci permette di fare i lavori in maniera efficace, efficiente e funzionale alle finalità dell'ente e dall'altra parte reinvestire i soldi appunto del cittadino, quelli della contribuenza sulle imprese locali creando così un modello economico virtuoso. Questo permette di avere una presenza più puntuale nel territorio da parte delle imprese, un coinvolgimento del territorio stesso sulle attività del Consorzio, su questa salvaguardia e mitigazione dal rischio idraulico. Questa collaborazione è stata rinnovata ed aggiornata anche in termini economici. È anche una specializzazione nella specializzazione perché l'azienda agricola vive il territorio per cui chi meglio di lei può entrare nel merito anche di lavori di pubblica utilità. È l'infa vitale perché in momenti dopo la pandemia e dopo i rincarichi ci sono stati nei vari settori, questo è un contributo importante. È una garanzia anche per tutti i cittadini perché lavorare con delle imprese che hanno tutto l'interesse e che la bonifica funzioni in maniera efficace è anche una garanzia di economia perché si risparmia e anche di efficacia ed efficienza. Porta miglioramenti per quanto riguarda l'assetto idriologico appunto, ma anche consente alle aziende di ottimizzare le loro attività implementando l'attività agricola con un sostegno alla manutenzione del reticolo idrogeologico.